Allora, prima di passare alla conferenza stampa post-Zenit Juventus di Champions League terminata poche ore fa, volevo invitarvi a iscrivervi al canale, come al solito, like, commenti e attivare la campanellina e iscrivetevi anche al canale di Massij, un mio carissimo amico youtuber e anche esso juventino. Il link ve lo lascio giù nella descrizione. Allora, questa sera è stata una partita molto molto difficile contro una squadra che praticamente si è arroccata tutta dietro, dieci persone praticamente dietro la palla, altro che pullman davanti alla porta, hanno messo pullman, macchina, biciclette, hanno messo praticamente tutto quello che potevano mettere lì davanti. Ovviamente quando trovi una squadra così chiusa è molto difficile arrivare al tiro, però noi abbiamo praticamente esagerato, sostanzialmente abbiamo costruito, 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 però poi alla fine non l'abbiamo quasi mai concluso, se non in due o tre occasioni. Molti errori, effettivamente è buono per i tre punti perché ci danno quasi l'ipotetico passaggio al passaggio dei gironi, però ancora non è ufficiale. Serve una vittoria contro lo Zenit, quindi nella prima gara del ritorno a Torino per poter effettivamente festeggiare il passaggio del turno. Ora testa all'Inter e sentiamo cosa ha da dire il nostro carissimo mister. Allora, la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, sempre di misura. Beh, se si continua così si vince tutto, però l'altra volta mi hai detto mi piacerebbe vincere con qualche gol di scarto in più. Buonasera a tutti. È acceso, sì. Diciamo che stasera teniamo bene un buon risultato, ottimo, ottimo risultato, ottimo risultato. Diciamo che potevamo fare meglio in campo, però questo è un buon segno, così almeno cercheremo di prepararci al meglio per la partita di domenica. perché comunque quando fai tanti risultati ci può essere anche il pericolo dietro l'angolo, il fatto di allentare un po' l'attenzione. Stasera abbiamo fatto delle buone cose, delle cose meno buone, abbiamo accelerato poco. Poi direi sono stati bravi a portarla a casa, alla vittoria, perché comunque ci mette in una condizione ottimale per il passaggio del turno. Altre domande? Ministro Luca Bianchini, Gazzetta dello Sport. Una cosa positiva e una negativa. Quella negativa sente di aver bisogno di dare qualcosa in più in fase offensiva, propositiva. Dov'è il passaggio che ancora non vediamo? Una positiva, Kulusevski, onestamente non mi sembrava una buona partita la sua, però il gol lo sblocca. Pensa che possa darle qualcosa? Il calcio è strano, è così. Kulusevski sicuramente non ha fatto una buona partita, invece dopo è stato decisivo. Vuol dire che era dentro con la testa, vuol dire che cercava questo gol sicuramente per sbloccarlo un po', per farlo crescere in autostima. Per quanto riguarda l'altra situazione, non era facile contro una squadra chiusa. Negli ultimi 30 metri bisogna essere più sereni e fare delle scelte migliori. Questo piano piano lo faremo. Poi è anche vero che sono tante partite che giochiamo e quindi ci poteva essere anche un pochino di stanchezza. Ciao Giuseppe Bisantis, Radio Rai. Ciao Mattia. Allora, intanto, anche se è passato, auguri perché hai fatto il compleanno, no? È stato il giorno del tuo compleanno. Stai vivendo anche un gran momento dal punto di vista tecnico. Grande partita con la Roma, grande partita stasera e assist vincenti per i gol. Insomma, poi questa capacità di giocare a destra e sinistra indistintamente si è diventato un giocatore molto, molto importante. Sì, grazie, grazie mille. Non potevo chiedere modo migliore per festeggiare il compleanno. Prima di tutto, vabbè, la cosa più importante era la vittoria della squadra. Perché questi tre punti, come dicevo, anche subito a fine partita, non ci garantiscono ancora la qualificazione diretta. Però è comunque un grande passo aver fatto le prime tre vittorie nelle prime tre partite del girone. E poi ci andremo a giocare la... ci andremo a conquistare la qualificazione al ritorno alla prossima con lo Zenit. Tu quando sei tornato eri convinto, ti sentivi sicuro di poter fare parte di questo gruppo? Sì, ma io ne ero convinto anche l'anno scorso. Poi, vabbè, ovviamente la società fa delle scelte e io avevo accettato di fare un'esperienza anche all'estero. Però io sono sempre stato convinto delle mie qualità, di poter far parte di questa squadra. E poi ci sono talmente tante partite, tante competizioni che si gioca praticamente ogni tre giorni, che c'è sempre bisogno di ogni singolo giocatore all'interno della squadra. Perché anche poi chi entra a partita in corso può fare la differenza, come è successo anche stasera con il gol di Kulu. La serve di Bala contro l'Inter. Ciao, Mattia, Luca Bianchi, in Gazzetta dello Sport. Complimenti, una domanda sul contratto, che sei uno dei giocatori con il contratto più vicino, in scadenza. C'è qualche novità? Hai tu un progetto o hai parlato con la società o ancora niente? Grazie. No, no, non abbiamo ancora affrontato l'argomento, ma sinceramente da parte mia è proprio l'ultimo dei pensieri. Sono molto sereno da quel punto di vista perché sto pensando a rimanere concentrato solo sul campo, a dare il 100% ogni giorno, come ho sempre fatto. Poi sono convinto che il lavoro paga sempre e verrà tutto di conseguenza. Però quello che mi preme dire è che al momento sono tranquillo, sereno e sicuramente arriverà il momento anche per quello. Arriverà, vedremo. Emanuele? Ciao Emanuele Gamma Repubblica, tu sei uno di quelli che conosce meglio Allegri. Volevo chiederti che lavoro ti sembra che stia facendo sulla squadra. Avete un'identità molto precisa oramai e vincete sempre la stessa maniera. Tu che lo conosci appunto meglio di chiunque altro, come descrivi questa fase della Juve? Il mister, da quando lo conosco io, è sempre stato bravissimo nel saper gestire le situazioni, anche nei momenti di difficoltà, come quelli che abbiamo avuto nelle prime partite, dove dovevamo ancora trovare una quadra a livello di squadra e una compattezza, è una cosa che stiamo trovando sempre di più ed è dimostrato dal fatto che mi sembra la quarta partita che vinciamo per 1-0, che penso sia il risultato più bello, soprattutto per noi difensori e per il portiere, perché dimostra, appunto, come dicevo, che la squadra sta trovando sempre più questa solidità che era mancata all'inizio e ci permette di acquisire partita dopo partita sempre più fiducia e consapevolezza in noi, quindi credo che sia importante anche il lavoro che sta facendo il mister, perché anche per tutti noi comunque non è stato semplice all'inizio della stagione, anche dopo l'addio di Cristiano, doverci ridimensionare, anche perché comunque anche le altre concorrenti si sono ulteriormente rinforzate, e adesso dobbiamo continuare su questa strada con lo stesso atteggiamento, perché senza distrarci troppo, perché come dicevo prima, giocando ogni tre giorni, stasera è giusto godersi la vittoria, ma da domani poi bisogna già pensare alla partita di domenica, che è un'altra partita fondamentale in chiave campionato. Come fa Allegri a non farti giocare domenica contro l'Inter? Non lo so, quello si vedrà da domani, saranno scelte che prenderà lui, anche in base alle condizioni fisiche di ognuno di noi, perché come dicevo prima è già tanto che stiamo giocando ogni tre giorni e sarà così ancora fino alla prossima sosta di novembre, perciò ci sarà bisogno di tutti, chi parte dall'inizio ma anche chi parte dalla panchina, perché come dicevo prima può essere determinante anche chi entra dopo. Bisogna essere sempre tutti pronti, come stiamo facendo soprattutto nelle ultime partite, e la cosa più importante per me poi sono gli obiettivi di squadra, quelli vengono prima di tutto. Finita. Vabbè, strana, la conferenza generalmente parla molto di più l'allenatore, questa volta praticamente ha parlato molto di più dei scigli. Come dicevano loro, mi trovo abbastanza d'accordo, non è stata soprattutto Allegri, non è stata una grande prestazione, però comunque si è stata concreta. Abbiamo ipotecato quasi il passaggio, però ancora bisogna fare il passetto finale contro lo Zenita e il ritorno. Ora la testa, che è importante nella partita di domenica, perché anche in amichevole contro quelli là vogliamo vincere, conta tanto, non solo tre punti, ma conta anche per il morale e per la fiducia nei propri mezzi. Speriamo, 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 speriamo. Dobbiamo certamente fare un gioco più propositivo, soprattutto negli ultimi 20-30 metri, bisogna cercare magari o il tiro o il passaggio filtrante. L'abbiamo fatto in due o tre occasioni questa sera e c'è andata quasi bene. Poi alla fine, insomma, c'è con un cross di Vede Sciglio e con una spizzata di destra di Kuluseski, siamo riusciti a risolverla. Detto questo, io penso di aver detto tutto, o perlomeno, insomma, c'è quello che è inerente alla gara. Tra l'altro ho commentato la gara e vi lascio il link qui su, se eventualmente volete, insomma, passare anche di lì. Come dicevo, insomma, iscrizione al canale, iscrizione al canale anche di MassiJ, il mio amico, attivate la campanellina per non perdere alcun video futuro, come dice un mio carissimo amico, che è Tony Bianconero. Io vi auguro una buonanotte e fino alla fine, sempre per sempre, Forza Juventus! Grazie! 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 Grazie!